Ho bisogno che mi mettete uno davanti, uno di fronte all'altro. Ho bisogno che ti rilassiate. Ecco una? No, stai niente. Perché facciamo dire agli occhi a Luca. Ok, Luca, voglio che ti rilassi, che ispiri con il naso e che ispiri con la bocca. In qualsiasi cosa che lo senti, voglio che la toglie, non mi dici niente, intanto che te la chiederò io, ok? Mi senti da toccare? Dove? In fronte, ok? Resta, 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 voglio che alzi le mani davanti a te, in fronte a te. Voglio che resti così, voglio che ti rilassi, ok? Adesso voglio che mi dici dove senti da toccare. Sul braccio dentro, ok, ok, abbassa le mani. Adesso voglio che ti rilassi, voglio che respiri dentro col naso e fuori con la bocca. Il numero è questo, quando vieni. Adesso voglio che mi dici quante volte si rilassi a toccare. Dove? Ok, abri un po' di occhi. In canale di tua moglie ti dico così. Adesso voglio che mi dici quante volte ci rilassi a toccare. Grazie! 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 Luca, 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 Luca.